Sì, sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. È tempo di Amarcord. Budrio è il crocevia di una stagione che porterà big match di giovedì sera in programma neri contro l'Imo Lise. O dentro o fuori, i passi per la Serie C è a portata di mano, anche se su questo campo qualche anno fa i Rimini prese tre sberle che servirono per accantonare un periodo disastroso e trovare la marcia vincente verso la promozione. Nutrita la rappresentanza ospite, Puno ha messo a disposizione gratuita dalla società che hanno portato il tifo delle grandi occasioni, anche se l'inizio è di marca locale. Mezzolara che si spinge in avanti con questo cross di Melli, Mamezzetti, di testa, mandallato. La risposta dei Rimini non si fa attendere. Lighini, finalmente titolare, mette al centro, Brighi calibra male, la battuta. Biancorossi, sostenuti dai propri supporters, in questo caso si spingono in avanti. Il piattone di Cicarevic viene respinto e salta però Petti che in acrobazia non trova fortuna. La pressione di Minese prosegue, scambio in velocità Arlotti e Simoncelli, traversione di quest'ultimo, battuta del ragazzo del Pony Express di Coriano, pallone respinto, Guglielbelo raccoglie, ma viene murato anche lui. Variola dalla distanza prova i gol della domenica, spedendo alto. Monologo biancorosso che prosegue, scambio Simoncelli e Cicarevic con l'estremo di casa che non trattiene una facile presa, rifugiandosi in corner. Dalla bandierina Petti sfrutta tale regalo, trovandoli in cornata vincente per il vantaggio biancorosso. I reprei ci mostra la prudezza del difensore ospite. La risposta di Mezzolara è imminente, ma qui Papaianni si lascia ipenotizzare dall'attento e bravo Scotti. Nella ripresa, il Rimini sfrutta l'arma Guglielbe, diagonale di quest'ultimo bloccato senza problemi da Malagoli. Su un versante opposto arriva un rivio corto dalla difesa biancorossa, ma Mezzarini non riesce a centrare il bersaglio. Bersaglio che invece viene indovinato una manciata di minuti più tardi quando Bagnai. Trova la deviazione vincente di testa che non lascia scampo all'estremo ospite. In mezzolara, trovato in pareggio, prende coraggio e si galvanizza. Gavocci chiama la presa Scotti, il Rimini subisce l'iniziativa locale. Qui Mezzetti si divora il gol del sorpasso, graziando in tutti i sensi la porta riminese. Subentra la classica legge del calcio, gol mangiato, gol subito. Traversore di Righini per l'incornata di Traini che firma i 2-1. Primo gol per l'ex Sant'Arcangelo che tra confronti e grigliate, successi nella settimana più turbolenta dell'anno, ha compreso la lezione. La caratteristica del colpo di testa continua a condizionare questa gara e Petti, che non si grava una doppietta dei tempi dei giovanissimi, trova il secondo gol di giornata, mandando in estasi la tifoseria ospite. Malagoli nel finale evita il poker a Gugliebre. Il Rimini vince di testa e Limolese giovedì sera è avvisata. Se questo Rimini qualcuno pensava che avesse perso la testa, a mezz'olara ha dimostrato di ritrovarla in tre occasioni e se con Limolese dovesse trovarla ancora una volta, il campionato potrebbe davvero essere archivato. E dato il periodo, nel luogo di Pasqua sarebbe sorpresa più gradita.